Situazione difficile ma non drammatica e in sintesi il pensiero d'esordio di Vittorio Di Carlo, presidente della Saga, sulle reali condizioni dell'aeroporto di Pescara. La regione Abruzzo, è noto, non ha previsto il solito finanziamento del piano marketing da 5 milioni di euro né per l'anno passato né per quello in corso. Un grosso problema perché, anche questa è prassi consolidata, la Saga i 5 milioni per fare promozioni all'estero li ha anticipati in attesa che dalla regione provvedessero a coprire l'esborso. Cifra promessa più riprese ma l'anno si è chiuso e della famosa variazione di bilancio non vettraccia. Il nuovo governo regionale di centrodestra, già perché la nomina di Di Carlo fu dell'altro schieramento, mette in discussione la gestione dello scalo pescarese da parte della Saga e chiude il rubinetto. Ma la regione, attacca Di Carlo, sapeva e sa ogni minimo dettaglio del nostro operato. Non è possibile però che le istituzioni che sono soci della Saga, che hanno tutta la documentazione nei cassetti, possano dire sulla stampa che non sanno come si sono utilizzate le risorse perché quelle istituzioni le hanno preventivamente approvate quegli utilizzi, le hanno controllate, le hanno ratificate e hanno liquidato le parti finali di quei fondi. Quindi si sa esattamente di ogni centesimo cosa si è fatto. Lo sa la regione, lo sanno le camere di commercio, lo sa il Comune di Pescara, lo sa Banca Caripa, lo sanno tutti. E di questi giorni poi la presa di posizione dei sindacati e dei lavoratori dell'aeroporto. Gestione allegra, ci vanno giù pesanti. Perfino il prefetto Orrei chiede spiegazioni. Io credo che ci sono tutte le condizioni per fare in modo che questa azienda continui a svilupparsi, che i lavoratori siano tranquilli. Io non condivido assolutamente il comunicato che hanno inviato ieri, credo, che è infarcito di inesattezze e di stupidità. Intanto dalla regione fanno sapere che i soldi per la saga arriveranno, magari da fondi FAS. Un fatto è certo, Di Carlo non sarà più il presidente. Ma Vittorio Di Carlo non è un problema. Vittorio Di Carlo ha scritto già il 12 gennaio 2009 al presidente Chiodi e all'assessore Morra, che gli hanno dato atto, di essere a disposizione. Quando decideranno siamo pronti a passare le consegne al nuovo presidente. Appuntamento per il 9 e 10 marzo per l'Assemblea dei Soci. L'imperativo è ricapitalizzare.